La mia crostata ai frutti di bosco è pronta! Amici, oggi Valeria ci preparerà una crostata ai frutti di bosco, chissà come sarà! Valeria, come primo passaggio che facciamo? Adesso andiamo a setacciare la farina, 170 grammi di farina 170! Mettiamo la farina all'interno della nostra ciotola Adesso andiamo a pesare il burro, 75 grammi di burro Preciso, preciso Pagliamo a cubetti il nostro burro e mettiamolo della farina Quindi adesso lo frulliamo con la frusta? Sì, adesso lo frulliamo un pochino Ok, frustiamolo! Ok! Ok! Impastiamo Impastiamo il burro nella farina Stiamo completando Adesso dobbiamo aggiungere lo zucchero a velo, 70 grammi Mi riesco sempre a setacciare tutte le farine Se levano tutti i grumi e quindi riesce ad essere tutt'uno con la farina e il burro Adesso aggiungiamo lo zucchero a velo alla farina e al burro Spiriamo un pochino ora Facciamo un po' di spazio al centro e adesso andiamo a grattugiare il limone Sempre al centro Ti bastano le mie carezze, il mio essere dolce con te? No, ho bisogno anche dei dolci Quindi ho bisogno di ulteriori dolci per essere addolcita Io abbondo un pochino con la scorza di limone perché mi piace molto il sapore del limone Ok Amici abbiamo messo il limone, ecco qua La scorza di limone Adesso dobbiamo aggiungere un tuorlo Non conviene farlo passare anche sotto la frusta così si amalgamai meglio Sì, adesso non ti preoccupare, adesso frulliamo tutto E chi si preoccupa? Aggiungiamo adesso un tuorlo Ecco qui Adesso andiamo a mettere il tuorlo all'interno della ciotola Ecco qua, abbiamo messo Frustiamo Frulliamo No, frustiamo Frulliamo O meglio, mescoliamo amici Mescoliamo È troppo forte, va bene, è troppo fuori E basta Ho messo la frolla sul tagliere in modo da poter impastare meglio Ecco qua Eccola qui Eccola qui la nostra pasta frolla Impellicoliamo la nostra pasta frolla E mettiamola a riposare in frigo per 30 minuti Dovete sapere amici che la crostata ha origini umili Pensate che la crostata è stata assaggiata per la prima volta da un marchese che si trova in viaggio verso Napoli Mentre si trovava in viaggio si rompe la ruota del suo carro e fu ospitato da una famiglia di contadini che gli offrì questo dolce Lui, innamorato di questa crostata, di questo dolce, chiese la ricetta alla famiglia dei contadini e la consegnò alla corte dei Borboni Fu proprio da lì che poi si diffuse e divenne famosa Non solo rimase a piedi, o meglio a Napoli si dice a per E si è rubato pure l'idea tra l'altro Non l'ha rubata perché l'ha chiesto, ha chiesto questo Ha chiesto il permesso allora Questa gente che potevano diventare così famose anche loro Non hanno saputo tenere in mano loro Quindi è una bella storia Continuiamo con il nostro dolce E ora prepariamo la crema pasticcera Andiamo Vai, ti voglio vedere adesso Allora adesso cosa facciamo? Allora amici, adesso aggiungiamo 200 ml di latte intero Adesso mettiamo il nostro latte all'interno di una pentola abbastanza capiente Adesso mettiamo 50 ml di panna fresca Ok Mettiamo dentro Adesso andiamo ad aggiungere al latte e alla panna Questa fiala alla vaniglia Io preferisco la fiala ma potete scegliere anche di mettere mezzo baccello di vaniglia come preferite Perfetto Adesso ci servono 3 tuorli Ok, giusto giusto 3 Giusto 3 Ok Ecco il terzo tuorlo Ecco qua Ci siamo quasi Adesso pesiamo 70 g di zucchero Pensato 70 g di zucchero Adesso andiamo ad aggiungerlo ai tuorli Adesso dobbiamo pesare l'amido di mais Mescoliamo Lo zucchero con i tuorli 3 tuorli Adesso aggiungiamo 25 g di amido di mais Ecco qua 25 g di amido di mais Dovete sapere che l'amido di mais va a fare cremosa la nostra crema Amido di mais è un ottimo addensante Aggiungiamo al latte la panna I tuorli, lo zucchero e la maizena Facendoci aiutare dal lecca pentole Appena la crema pasticcera diventa denta Spegniamo il fuoco Pronta la nostra crema pasticcera Mamma mia Adesso mi faccio aiutare Da un lecca pentole Per Levare tutto Trasferirla in una ciotola Adesso metto la pellicola e la faccio raffreddare Prima fuori dal frigo e poi in frigo per circa un'ora Adesso stendiamo la pasta frolla e andiamo a metterla sul ruoto Ho già imburrato e infarinato il ruoto Adesso vado a capovolgere la pasta frolla sul ruoto Con un movimento felino Tolgo la carta da forno Adesso vado a fare dei buchetti con la forchetta In modo da non farla gonfiare Una volta bucata la pasta frolla con la forchetta Ho messo la carta da forno con i fagioli sopra Per non farla gonfiare durante la cottura Inforniamo per 15 minuti a 160 gradi a forno ventilato La nostra pasta frolla è pronta Mettiamo la crema pasticcera Vai Mamma mia Ok, aggiustiamo un po' Adesso andiamo a mettere i nostri frutti di bosco Faccio una piccola decorazione La mia crostata ai frutti di bosco è pronta Mamma mia che bontà Mamma mia Buonissima Buonissima Buonissima